nel bosco nel nostro bosco esistono funghi meravigliosi a saper ben guardare ciascun fungo contiene un perché di meraviglia a volte un colore a volte una forma a volte un profumo certe volte la delicatezza altre la robustezza oro argento o sangue ma solo uno vi lascerà bocca aperta l'astrofaria eruginosa di tutti i funghi che ho incontrato nel bosco fino adesso questo è sicuramente quello che mi ha emozionato più di ogni altro si tratta di un fungo veramente piccolo il cappello è convesso campanulato e tende a spianare con la maturazione mantenendo spesso un umbrone centrale come dice il nome stesso eruginosa il suo colore verde rame questa colorazione più chiaramente visibile nella maturità mentre nelle fasi iniziali tende ad essere di un azzurro vedastro molto brillante per via dell'abbondante sostanza mucosa o gelatinosa che riveste il cappello il cappello il gambo presentano inoltre delle squamusità biancastre che possono essere dilavate dalla pioggia il diametro può arrivare agli 8 centimetri e le lamelle di limenio sono bianco grigiastre negli esemplari giovani ma tendono al bruno violaceo in quelli più maturi le lamelle sono adonnate al gambo abbastanza fitte e presentano delle lamellule sul gambo è visibile un anello abbastanza ampio residuo del velo che ricopriva l'imenio e che nella parte inferiore è con colore al gambo mentre nella parte superiore tenderà al bruno come le lamelle la carne di colore vagamente biancastra o azzurro biancastra abbastanza inconsistente e senza viraggi al taglio si tratta di un fungo ubiquitario l'esemplare che ho trovato io cresceva su un ceppo marcescente appartiene all'ordine degli agaricales ed è certamente il fungo più bello in cui mi si è imbattuto finora se questo video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale e lascia un commento grazie per avermi seguito a presto a presto a presto